Musica Potente appara ragazzi, qua è Axelogio di Megad, oggi sono da sole e sono qui a presentare il mio nuovo video Che ragazzi c'è una nuova player review, o meglio italianizzato e la nuova recensione di un nuovo giocatore Ma di quale giocatore? Ragazzi, oggi 18 aprile del 2014, io ho l'onore di presentarvi la player review di Man of the Match Bale Oh my god Prima di iniziare vi volevo ricordare di passare da FIFA con gli stats, se siete interessati a comprare i crediti di FIFA E poi volevo come sempre strada ringraziarli, perché appunto grazie a loro, o meglio sono loro che mi danno l'opportunità e dunque la possibilità di provare questi fantastici giocatori Ma adesso è sì che possiamo partire Allora Bale si presenta con un 90 di rating, ma poi voi cosa potete vedere? Oh mio dio, ha cambiato nuovamente ruolo Ormai su questo FIFA li ha provati tutti, infatti la sua versione normale è una T se non sbaglio La sua versione in forma è un ED e nella sua versione Man of the Match ha cambiato ancora ruolo e sarà AS Se si segue questa proprietà, per proprietà transitiva se non erro, nella sua versione se uscirà a Team of the Season sarà un difensore centrale Quindi oh mio dio che roba ambigua No comunque a parte i scherzi Bale si presenta come un'ala sinistra, infatti ha cambiato nuovamente ruolo e con un 90 di rating Però qua voi dite subito la prima cosa, c'è un problema Bale un'ala sinistra ed è mancino, eh no, eh no, eh no Infatti una delle sue particolarità positive della versione in forma era quella di trovare sulla fascia destra e di avere come piede preferito il sinistro In modo tale che quando lui volesse sarebbe riuscito a scartare il difensore per poi rientrare e fare massimo, mettiamolo caso, un bel tiro a giro E quindi questo qua è già un suo problema perché lui è un'ala sinistra e ha come piede preferito il mancino Ma guardiamo un'altra cosa Bale si presenta con 4 stelle di possibilità, fantastica, anche il suo dribbling è un qualcosa di eccezionale Infatti ha 90 ma ha 3 stelle di piede debole E questa qua ha una caratteristica che lo penalizza ancora di più Ma adesso ne andremo a parlare Poi come workplace ha alto, normale e in 4 partite mi ha fatto 4 gol Adesso vi starò facendo vedere le sue statistiche su Futed oppure prese dal gioco Comunque Bale ragazzi praticamente eccelle in tutte le sue caratteristiche Infatti ha quasi tutte le caratteristiche sopra l'80 ma addirittura anche sopra il 90 Però anche qua notiamo subito un aspetto stranegativo di questo giocatore Che appunto, ecco mi scuso un attimo se sto riprendendo le cose che ho detto nella sua versione informa Ma in poche parole sono sempre le stesse Infatti il suo equilibrio Bale ragazzi si presenta con solamente 70 di equilibrio E io, ormai voi sconoscete la mia filosofia qual è Su questo gioco un giocatore deve avere forza fisica E o accelerazione oppure tanta ma tanta agilità Porca trotola mi suonano al citofono Io non posso, sarà mia sorella Fa niente Comunque stavo dicendo che qual è appunto un aspetto negativo di... E mi risuonano Qual è appunto un aspetto negativo di Bale? Quello che ha sì una grandissima accelerazione ma non ha l'equilibrio Questo cosa comporta? Che magari lui sulla fascia si metta a scartare tutti gli avversari Ma se poi vi trovate il David Luiz o il Dante che ne so della situazione Questo vi prende a spallate e ve lo fa cadere Ma ve lo dico perché lui cade veramente tanto In effetti questo qua ha uno dei suoi aspetti molto negativi Poi un altro suo aspetto negativissimo qual è? È il prezzo ragazzi Questo giocatore costa 4.900.000 crediti su Xbox 4.310.000 crediti su Xbox E solamente 9.420.000 crediti su PC Ciò fa nascere noi una semplice domanda È meglio Bale Man of the Match o Cristiano Ronaldo Second If? Ora che si trovano entrambi sulla fascia sinistra Ragazzi Cristiano Ronaldo Second If tutta la vita Perché innanzitutto è un destro e si trova sulla fascia sinistra Ma poi anche per le mosse di abilità Infatti Cristiano Ronaldo è a 5 Come anche quelle di piedi debole Però diamo a Cesare quel che è di Cesare Perché infatti bene ragazzi Ha un'accelerazione E una velocità della mazzanna Cioè è veramente imprendibile Però come adesso mi ricollego a ciò che ho detto prima Un giocatore può avere sia un'accelerazione E una velocità della mazzanna Se poi però trova un David Lewis O come ho già detto un Dante della situazione Che lo prende un attimo a spallate e cade Potete ben capire che questi valori Questi alti valori sono abbastanza inutili Infatti adesso vi presento un attimo in poche parole Quali sono i suoi contro e quali sono i suoi pro Allora come pro ho messo l'accelerazione e velocità Che come avete potuto ben vedere Sono un qualcosa di fantastico E poi dribbling perché non ve l'ho detto Le sue 4 style di possibilità si fanno sentire veramente tanto E poi vabbè infatti lui su carta ha 90 dribbling Quindi è una cosa veramente fenomenale Se poi lo sposterete sulla fascia destra Come ho fatto anch'io Riuscirete ad utilizzare il dribbling Per scartare il giocatore La sua fantastica finalizzazione Infatti lui si presenta con 92 di tiro Per poi far dei gol assolutamente fantastici Come contro invece cosa ho messo Ovviamente il prezzo Il suo piede debole Perché infatti sono un ruolo naturale di questa carta Sulla fascia sinistra E poi la sua agilità Perché infatti presenta solamente 70 di equilibrio E andiamo un po' alle conclusioni Che voto do a Bale? Ragazzi su una scala da 1 a 10 Gli do 8,25 Che è un voto molto simile rispetto alla sua versione precedente Infatti O meglio non precedente Alla sua versione in forma Perché se vi ricordate Io alla sua versione in forma Avevo dato un voto da 1 a 10 Ma perché ha questo 0,25? Perché ragazzi Bale man of the match è più forte Ma anche più di questo 0,25 Solamente Perché ha solo 0,25 Per appunto il ruolo in cui si trova Se questa carta si fosse trovata Come alla destra Gli avrei dato anche 9 Perché la sua velocità E la sua accelerazione Fanno di lui Un qualcosa di veramente spettacolare E buono ragazzi Detto questo Spero di avergli fatto capire Come E detto questo ragazzi Spero di avergli fatto capire Quanto effettivamente è forte o meno Questo giocatore Spero di non essermi dilungato assai Magari se potete scrivete nei commenti Un pregio Un difetto di questa recensione E non l'ho detto Lo dico alla fine Per i più attivi Se questo video raggiunge 4.500 mi piace Io andrò a pink palare Bale ragazzi Pink pali di Bale man of the match Se questo video raggiunge I 4.500 mi piace Quindi via Ai mi piace E buon ragazzi Detto questo Dunque io vi risaluto Vi dico potente A palaci Dal prossimo video Bolla Ultimissima cosa ragazzi Se volete utilizzare un cosic app Vi invito cortesemente Ad utilizzare il mio stessa Cosa cercherò di fare io Quindi se siete interessati Scrivete nei commenti Il vostro codice Così che quando io ho appunto La possibilità di utilizzarne Un utilizzerò il vostro Per i più attività di utilizzare il vostro